Il Ministro dell'Interno Luciano Lamorgese ha emanato quest'oggi la direttiva ai prefetti per l'attuazione dei controlli nelle aree a contenimento rafforzato che riguarda appunto la provincia di Pesero Urbino. Attesa questa direttiva dagli organi amministrativi e da cittadini comuni dopo che nella giornata di ieri era arrivata la conferma del decreto del Presidente del Consiglio che dava un deciso giro di vite alle misure per il contenimento del contagio da coronavirus. Nel dispositivo si chiariscono gli aspetti che più erano oggetto di commenti e interpretazioni varie sull'applicazione delle misure ovvero i controlli delle forze dell'ordine, come, in che modo e da chi verranno eseguiti, quali sono le casistiche, le deroghe e la corretta interpretazione delle terminologie anche come situazioni di necessità, salute o esigenze lavorative e come anche dimostrarle. Partiamo dai controlli relativi alla limitazione degli spostamenti delle persone fisiche in entrata e in uscita e all'interno dei territori a contenimento rafforzato. Gli spostamenti potranno avvenire solo se motivati da esigenze lavorative o situazioni di necessità o motivi di salute. Un divieto assoluto e senza eccezioni invece per le persone in quarantena o positivi. Ma che cosa si intende per queste casistiche? Come contenuto nella direttiva del Ministero, le situazioni di necessità devono essere identificate in quei casi in cui lo spostamento è preordinato allo svolgimento di un'attività indispensabile per tutelare un diritto primario, che diversamente non potrebbe essere garantito. Per motivi di salute si devono identificare quei casi in cui l'interessato è costretto a spostarsi o sottoporsi a terapie o cure mediche non effettuabili nel comune di residenza o domicilio, come ad esempio potrebbe essere una dialisi. Le esigenze lavorative devono essere comprovate attraverso un'autodichiarazione, anche non indifferibili, o condizioni naturalmente che l'attività lavorativa o professionale non rientri in quelle sospese, come quelle degli insegnanti. Al momento non sono previsti blocchi sulle strade che portano fuori dai confini provinciali, ma i controlli sul rispetto delle limitazioni della mobilità avverranno lungo le linee di comunicazione e le grandi infrastrutture del sistema trasporti. I controlli saranno effettuati per le autostrade, la viabilità principale dalla polizia stradale, sulla viabilità ordinaria invece saranno effettuati anche da carabinieri e polizia municipale che potranno richiedere l'autodichiarazione. Anche sui treni e alle stazioni ferroviarie la Polfer effettuerà controlli in collaborazione con il personale delle ferrovie dello Stato, canalizzando i passeggeri in entrata e in uscita dalle stazioni per verificare lo stato di salute dei viaggiatori, anche con l'utilizzo di termoscanner e anche i viaggiatori dovranno esibire l'autodichiarazione. Per le autodichiarazioni verranno effettuati successivamente controlli sulla veridicità e in caso di falsa dichiarazione o in violazione delle disposizioni delle forze dell'ordine potranno anche denunciare i trasgressori che rischiano. In base all'articolo 650 del codice penale l'arresto fino a tre mesi di carcere o l'ammenda di 206 euro, sempre che non si ravvisi un reato ancora più grave come il delitto colposo contro la salute pubblica.